L'ego ha deciso di tirare fuori ancora altra roba, ma... Cioè, abbiamo fatto i video fin... Ciao a tutti amici e amiche di Due Pazzi per il Ego, bentornati qui sul nostro canale. Io sono Johnny e nell'aere da qualche parte si spande il signor Roberto Ceruti e oggi vi racconto di che cosa ha tirato fuori l'ego perché è incredibile. Cioè, vabbè. Io che stavo dicendo adesso, devo spendere un po' di soldi perché purtroppo Nino non ha e invece è cala. E allora, e allora, io dico di iniziare, ma prima di iniziare vi dico anche che faccio apparire questa cosa qui che PAM! C'è il signor Big Manu, ma soprattutto online, che è un negozio fisico e vi vende i Lego, i Funko Pop, gli Action Figure e vende anche delle padelle col fondo anti-aterente. Quindi, comprate. E no, scherzi a parte, c'è uno sconto del 10% per tutte le persone che decidono di utilizzare il magico sconto di Due Pazzi per il Ego. Vabbè, facciamo scomparire questo, facciamo apparire questo perché appare... Vedete qua c'è una... c'è immaginina con le faccine, ma perché adesso stando per apparire che cosa? Sono appariti i set di Ninja, o c'è queste cose ninja galattiche e quindi io guarderò il computer. Quindi vedete che da qui che siete voi, io andrò a vedere qui, che me le guardo insieme a voi, ve le descrivo, va bene! Ed eccoli qua. Allora, ricominciamo con questi Spinjitsu che, se proprio vogliamo essere proprio onesti onesti, hanno anche un po' rotto le scatole. Però, vabbè, ai bambini piacciono, bambini piacciono, quindi ce ne saranno tre, come ha visto Kaimo, c'è Nia e poi ci sarà, penso, non mi ricordo chi c'è, c'è Lloyd. Vabbè, Lloyd è super ultra presente, sta sempre dappertutto e come prezzemolo, infatti, è verde. E niente, questi sono carini, sono carini, questi Spinjitsu, diciamo la verità, nuove minifigure ed eccole qua. Partiamo da questo set 4+, dove ci sono questi due figuri, lo fanno sempre in veicolone questo cocai, veicolone sempre all'astra grande, ma guardate quanto sono belle queste minifigure. Cioè, queste stanno in un set 4+, sono bellissime, a piace. Diciamo, l'elmo, il casco e il bodywear sono due cose diverse, si staccano, ok? Questa cosa è importante. Poi passiamo a quest'altro set, dove ce ne abbiamo altri due, abbiamo Jay e Lloyd, contro quest'altro nemicone gigante, con questa sorta di lupo grosso, bello. Ed ecco qua le nostre minifigure. A me sinceramente piace, ho questo tipo di super bandanone, cioè, non sono male, ogni volta fanno una nuova interazione questi Ninjago, però ogni volta ce prendono. Quest'altro invece sembra tipo una macchina di Nia, di nuovo, e qua però abbiamo ben 4 minifigure, quindi iniziamo a entrare nell'ottica, insomma, un po' cicciose. Ecco, e ci abbiamo anche Cole qui, Zane, Cole, no, quindi non è di Nia, è di Cole, è di Zane, ho detto una greddinata, comunque è bello pure questa capa dell'antiaderente in testa che va a comprare sempre da Big Manu. Poi bam, sta cosa è allucinante, cioè, sarebbe tipo un veicolo che è Transformers praticamente, è molto interessante, a me sinceramente piace. Poi qua c'è il draghetto, lo vedete? Il draghetto molto molto carino, e qua dice che semenano, fanno a botte, mi sembra anche giusto, cioè, sono dei Ninjaki e loro la fanno in questa maniera. Poi, oh, questo è un dragone gigante, rosso, bello, bello, bello. Mi piace anche, veramente, l'hanno fatto molto molto carino, molto super articolato, cioè, non è il solito drago, ecco, mettiamola così. Anche qua ci abbiamo cinque minifigure, sempre le nostre minifigure che semenano dei Ninjaki, a me sinceramente queste minifigure arrazzano tantissimo, devo dire la verità. Poi abbiamo qua che ci sono due mecca addirittura, cioè, ad esempio, non ne bastava, la dice, ne facciamo ben due, ben due, quindi, anche questo, dal set costrerà sborantamila milioni, però va bene. E qua ancora ci sono queste minifigure che semenano, ci sta collocando la padella in testa, che comunque lo prendo in giro, ma in realtà a me piace. Eppure le armi sembrano nuove, eh, quindi, attenzione, sembrano nuove armi Ninjaki, e poi queste in realtà sono le minifigure del set del tempio, che adesso stiamo per vedere, con queste nuove minifigure figa pure, col cappuccio, che sembra tipo un mago che è scivolazza, infatti sta qui nel nuovo tempio dei Ninjaki, con questo bellissimo albero gigante in lato, che è veramente carino. A me questo set piace veramente tanto, io sono invidioso di tutti voi che ho comprato. Poi qua c'è sta il mecca contro il drago blu gigante, occhi blu, stupendo, e c'è sta quello che ha la padella dorata, questo giro. Guardate, infatti, quando fa vedere le minifigure, eccolo là, al centro c'è quello con la padella in testa, ma stavolta è dorata. Però la comprate sempre a Big Mom, pure la padella dorata, è importante, è importante. Quindi, altri set Ninjaki, oh, e che cosa puoi fare? Non puoi fare il Destiny's Bounty? E allora rifacciamo di nuovo il Destiny's Bounty? Ecco, di nuovo il Destiny's Bounty di Ninjaki con un botto di minifigure pure questo. Vediamo, infatti, che ne ha ben donde di 6 più il dragetto, quindi interessante. E poi c'è sta questa tizia con le orecchie da gatto in testa, mi sembra una tizia, eh. E' carino, comunque, come settino, cioè. E poi queste, invece, sono le minifigure di un set piccolo, un set piccolo che comunque ce ne ha ben 3 più il draghetto, che stiamo per vedere, che è questo qui con questo veicolo che sta arrivando, fidatevi. Eccolo qua, con questo velivolo, no veicolo, con questo velivolo, con questo drago, questo è un 4+, però, insomma, un 4+, abbastanza arrogante, è un 4 minifigure, 2, è bello. E poi, iniziale, 71,799, questo qua, attenzione, è incredibile, boom, mi esplode il cervello di tantissimo. Perché qua, praticamente, che cosa succede? Questi sono Ninjago Market, un set da 370 euro che dentro c'è il mondo. Cioè, è enorme, boh, che questo qua, se avete comprato Ninjago City Dogs, Ninjago City, Ninjago City Garden, c'è pure il Ninjago City Market. Cioè, questa cosa è Ninjago City, sta un po' sfuggendo di manica, come si suol dire. Perché, guardate quante minifigure c'ha, 5, 10, 15, 21 minifigure. Dici, gli sto pure dando 370 bombe, quindi devi anche slow down e darmi tutto quello che puoi. Però, comunque, insomma, ragazzi, cioè, che cosa, che cosa che guardano i miei occhi, i miei vetusti occhi vedono questo, questo set è gigantesco, cioè, io non saprei più neanche... E basta, e sono finiti qua i Ninjago. E allora, facciamo un po' di considerazioni. Allora, innanzitutto, mentre continuo a farli andare, eccetera, li vedrete, eccetera. Allora, Ninjago estate 2023. Tralasciando il 71,799, 370 bombolette, set che può andare a fare, diciamo, la vostra collezione, appunto, come dicevo, con Ninjago City, Ninjago City Docks e Ninjago City Garden, ok? Hanno deciso adesso di puntare su questi stragiganti modulari, ragazzi, 370 euro. È bellissimo, io, vi dico, non essere sincera verità, tenterò di acquisirlo pur moi, se ci riesco. Perché c'ho tutti gli altri, quindi cercherò di prendermelo. Poi, ci sono queste minifigure, che onestamente si meriterebbero di... Lo sapete, no? Poi dopo, fra poco, partirebbe il minifigure da ieri nuovo, eccetera. Lo sapete che io ho questa cosa delle minifigure, e queste minifigure qua... Sono belle. Sono belle, non gli si può dire niente. Cioè, Ninjago è un po' che sta menando di brutto con queste minifigure. E guardatele, guardatele, veramente, veramente bellissime. Super dettagliate. Cioè, se ripensate a com'erano i primissimi Ninjago del 2010, vedete queste cose. Sono passati 13 anni, ma loro ci hanno messo veramente le mani pesanti sopra. Io sono molto contento quando vedo queste cose. Lo dico proprio spassionatamente. Poi c'è quello con la padella in testa, che sinceramente faccio fatica a capire... Ve lo dico. Probabilmente è un antico copricapo giapponese. Per me è la padella. Però va bene. E niente. E poi ci sono questi altri nemici che hanno, diciamo, queste facce un po' animalesche. Ecco. Abbiamo un po' deviato dai soliti nemici Ninjago, che tanto erano sempre i serpenti. O i scheleti, i serpenti, i scheleti, i serpenti, i serpenti, i scheleti, eccetera. Adesso stavolta abbiamo un po' deviato. C'è questo animaletto che si porta in giro dappertutto, questo draghetto che assomiglia un pochino a quello di Shang-Chi, però modificato. Ma io vi dico la verità, opinione super positiva. Super positiva perché in genere Ninjago tende ad avere i set molto belli a gennaio e sì, quelli carini in estate. E invece è qualche anno che questa tendenza si sta un po' invertendo. Perché a me quelli di gennaio sì carini, vi dico la verità, però non mi avevano fatto impazzire. Qualcosa ho preso, però non mi avevano fatto impazzire. Invece vi devo dire la verità, questi di quest'estate, cavolo. Cioè se qualcuno si impazzisse e mi regalasse l'intera batteria non è che mi farebbe proprio schifo. A parte che non fa schifo quando ti legalano un Lego, mai. Però vabbè ci sono quelli che rimani più contento, più entusiasta e quelli che dici Sì grazie che mi hai regalato questo camioncino della City. Scusate se vi piace la City lo posso comprendere, però se mi regalano il camioncino della City non è proprio il top per come ragiono io, però ci sta, ci sta. E quindi niente, questi set usciranno tutti quanti in estate 2023. Quindi preparatevi a tenere le vostre mani nel portafoglio e vi dico già che ci sono, già che ce l'ho qui davanti, alcuni dettagli su il Ninjago City Market. Sarà in esclusiva VIP dal 1 giugno e poi dal 4 giugno per tutti voi. Praticamente ci sarà il negozio i Borg, bancarelle, bla bla bla. Sarà alto 46 cm, 51 largo e 25 di profondità. 370 bombolette, lo trovate già in anteprima sul sito della Lego se volete cioè dagli un occio, un occio che ve lo sguarducchiate eccetera e vedete tutte le immagini più grosse di questo video di noi due pazzi per Lego che vi vogliamo bene, però di fronte alle cose che potete pure zoomarlo vedervelo bene dentro e io vi dico allora fate un saltino sul sito Lego a vedere il set che è questo, che vedete che sta qua, è bellissimo e io tenterò di acquisirlo disperatamente anche se non sto più navigando negli ori e adesso che ci penso mi viene proprio in mente questo fattore io negli ori non ci ho navigato mai. Bene, diciamo che torniamo qui e io ritorno qua e noi con questo video bello di tutte le novità Ninjago perché Lego continua a suonare a Lego anche basta adesso perché c'è, nel senso adesso mi stai mettendo veramente duramente alla prova perché stavo pensando adesso mi sa che mi compro i Dreams e poi mi dico mi sa che mi compro Ninjago e poi mi sa che mi compro niente se continua così mi attacco a questo tram tram che mi porta verso i saluti. Quindi ragazzi è stato bellissimo essere con voi anche oggi è stato un momento di hilare e felicità io e Roberto vi aspettiamo sempre su questo canale come facciamo molto frequentemente ed io vi saluto e vi saluto perché è ora che al prossimo video ciao 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 Ciao